Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua per ringraziarvi perché ho raggiunto, abbiamo raggiunto i 900 iscritti in particolare adesso dovrebbero essere 902, quindi meno 98 iscritti a quel famigerato a traguardo dei 1000 iscritti Ma perché puntare a questo numero? Perché YouTube quando raggiunge i 1000 iscritti e per esempio 4000 ore di visualizzazioni annue ti monetizza, ovvero va a pagarti per le visualizzazioni e per eventuali annunci E allora sono qua anche per portare un video esperienziale di quella che è stata, che è la mia carriera di YouTuber Carriera poi, stiamo parlando in grandi termini, però quello che comunque è stato il mio tempo che ho dedicato qua su YouTube perché ormai siamo quasi a due anni da quando ho postato il mio primo video, la mia prima recensione sul Galaxy Watch 4 Allora probabilmente questo video tornerà utile a colui o coloro che vorranno aprire un canale YouTube Avete già capito che io con YouTube per ora guadagno o guadagno zero Esistono poi altri metodi per andare a guadagnare qualche spicciolo, qualche centesimo Per esempio le affiliazioni Amazon Se volete un video a parte su questo scrivetemelo nei commenti che magari vi porterò a un video dove tratterò bene questo punto Ora però vi porto nella mia dashboard, in quello che concerne tutte le mie statistiche di YouTube Proprio per farvi capire che strumenti ho a disposizione per andare ad analizzare i miei contenuti caricati Ed eccoci qua, qua siamo sulla mia dashboard, il tuo canale Davide Biffi Dashboard, contenuti, analytics, commenti, sottotitoli eccetera eccetera Vi porto subito sulla parte guadagna perché l'ho introdotto e quindi andiamo bene a parlarne Sei partner di YouTube? Sì sono già partner perché da poco YouTube ha implementato un programma partner Che permette a coloro che raggiungono i 500 iscritti E non mi ricordo l'altra statistica di visualizzazione però insomma 500 iscritti Io al tempo ero a 750, 780 quindi ho aderito a questo programma YouTube Ho fatto quindi una richiesta, una domanda a YouTube che mi è stata accettata nel giro di 3-4 ore E sono entrato a far parte già nel partner di YouTube, nel programma partner di YouTube Ma attenzione perché non vuol dire che stia guadagnando Il programma partner di YouTube per coloro che hanno dai 500 iscritti in poi Permette appunto a questi utenti di andare a guadagnare tramite super grazie abbonamenti O prodotti proprio all'interno del loro sito YouTube Quindi io non ho ancora attuato niente di questo perché mi sembra abbastanza prematura come cosa Quindi continuo ad avere guadagni zero Adesso io non so se qua si riesca, vedete abbonamenti Non vedi dove ancora configurare tutto Qua vi parlavo di super grazie, super chat, super sticker, super eccetera eccetera E qua è la parte dello shopping dove dovrei mettere il mio sito di shopping Quindi magari questa partnership è più indicata per altri YouTuber con un altro target Vedete che la mia idoneità deve soddisfare questi requisiti 1000 iscritti, siamo a 902 come ho detto all'inizio della registrazione E 4000 ore di visualizzazione Per quel che riguarda le visualizzazioni e per quel che riguarda il tempo di visualizzazione Sono molto soddisfatto perché negli ultimi 365 giorni ho più che duplicato Quelli che sono i requisiti per entrare nel programma partner vero e proprio di YouTube L'alternativa è soddisfare il requisito dei Reels Che ho inizialmente pubblicato un mesetto fa L'ho continuato abbastanza regolarmente fino alla scorsa settimana Totalizzando un numero di 23.045 visualizzazioni di short pubblici Probabilmente ho chiamato Reels prima perché mi confondo sempre Sono short Ovviamente qua non è nei 365 giorni ma nei 90 giorni Il requisito è 10 milioni Allora parliamo di short perché io ho avuto un grande Insomma grande, relativamente grande aumento di iscritti e di visualizzazioni Proprio tramite i miei contenuti short Che sono questi, contrassegnati da questo bollino qua Però non riesco bene a capire perché alcuni vadano, alcuni no In realtà un motivo ci sarà Non è tanto colpa di YouTube Almeno molti dicono così L'algoritmo di YouTube è molto segreto Giustamente molto difficile da comprendere Fatto sta che alcuni vanno, alcuni no Ovviamente anch'io provo a inserirli in orari specifici Anche in giorni specifici Ma non ho ancora capito bene Qual è il target? Se no non saremo qua a parlare probabilmente Vi direi la soluzione Fatto sta che questi Reel mi hanno permesso di avere abbastanza iscritti Ma probabilmente sono andati a far calare un pochino Quelli che sono le visualizzazioni dei miei video Questa è una mia ipotesi Ma probabilmente errata Vi dico solo che nell'ultimo periodo Per esempio questo video qua A cui tengo tanto Guardate è stato probabilmente il video peggiore Da quando ho iniziato a caricare il mio A caricare scusate il mio primo Sì il mio primo video 66 visualizzazioni 274 in meno del solito E guardate lo strumento analytic di YouTube Come va appunto ad analizzare tutte le nostre statistiche Tutti i nostri video Qua è andato veramente male Mi dispiace perché comunque è un video che magari Non va ad analizzare in modo analitico Un determinato prodotto Ma vi fa proprio vedere sul campo Come può essere utilizzato E quante potenzialità Io vi dico la verità Ci ho messo anche tanto a montarlo Però ci sta che molto spesso Possa andare male un determinato video Vi faccio vedere invece Un video che a mio parere è andato abbastanza bene A cui tengo tanto Che è la recensione sull'iPhone 15 Vi faccio vedere iPhone 15 Pro Vi faccio vedere le analytics Ovviamente qua è partito subito a razza E poi ovviamente si sta un pochino Un pochino standardizzando Non dovrebbe raggiungere il plateau O almeno non in questo periodo Perché abbiamo ancora Insomma L'iPhone 15 Pro Come abbastanza main Argomento Però vedete qua abbiamo un'altra Un altro grafico E anche distribuito su più tempo 36 giorni dovrebbero essere Vabbè Nello strumento analytics Parliamo ora di questo Di YouTube abbiamo tutto quello che concerne Il video in sé Ok quindi la fidelizzazione tipica Del pubblico Che in questo caso non è disponibile La percentuale di spettatori Che sta ancora guardando La copertura Guardate qua Tutto quello che concerne Poi ragazzi C'è così tanta roba Che io Vi dico Non ci ho mai Fatto così tanto caso Forse sbagliando Però Insomma Veramente Tante Tante Tanto strumento È fatto veramente molto Molto bene Questo editor Ovviamente siamo su YouTube Studio Per coloro che ancora Non masticano La piattaforma YouTube E per coloro che Vogliono Iniziare Vi faccio vedere Che mi ha totalizzato 32 iscritti E questi sono gli spettatori Unici Dei miei video Andiamo sulle entrate Ed ecco qua Zero Vedete che bello Elettrocardiogramma Piatto Queste sono le entrate Stimate Zero Ragazzi Zero Zero Perché ve l'ho detto Non sono ancora Arrivato a I mille Iscritti Vi faccio vedere Però che Può YouTube Studio Andare ad analizzare Tutta quella che è La panoramica Proprio Nel Generale Diciamo così Nella parte totale Del mio Canale YouTube Questo è l'ultimo video caricato L'ho caricato Un'ora e 52 minuti Dalla pubblicazione Vi invito a vederlo Perché secondo me È un ottimo Sportwatch Anche un ottimo Smartwatch Ma manca di Quella qualità In più Che invece Apple Watch ha Qua abbiamo tutti i video Pubblicati Con tutte le varie Statistiche Abbiamo poi delle notizie Sulla parte di YouTube Perché poi Ci saranno Da analizzare Copyright Eccetera Eccetera Insomma sicuramente Non è un percorso Facile Qua invece La parte Che riguarda Le iscrizioni Che sono aumentate Notevolmente Nell'ultimo periodo Vedete che qua Ovviamente Quando mi fermavo Dal fare video Avevo un buco Però Diciamo che Dovrebbe ovviamente Aumentare Sempre di più Più si va Vicino Agli iscritti Notevoli Che sono Possono essere anche 5000 7000 7000 10000 iscritti Più ovviamente La curva dovrebbe essere Esponenziale E ragazzi Torniamo su di noi Questo ovviamente Era un video Veloce Spero vi interessi Questo argomento Fatemelo capire Con il mi piace Se volete Iscrivetevi al mio canale Che provo A raggiungere Prima dei due anni I miei 1000 iscritti E allora Porterò probabilmente Altri video di questo tipo Magari sempre più Specifici E sempre più Di vostro aiuto Per quella che può essere Anche per voi Un inizio di carriera YouTube O comunque Quello che per me Per ora E che probabilmente Sarà per sempre Un bel hobby Che riguarda La mia passione La mia più grande Passione La tecnologia Grazie ancora ragazzi Ci vediamo Ad una prossima Recensione Ciao